Perché sono delle merda i comunisti, perché i comunisti sono delle merda, questa è la verità. Mi spiega la differenza tra Prodi e Berlusconi? Beh, Berlusconi è uno che pensa ai cazzi suoi, Prodi è uno che pensa al paese, sono le differenze. Berlusconi non ha fatto altro che ai cazzi suoi. Berlusconi mica si è preoccupato del paese, Berlusconi si è preoccupato per le sue aziende di andare in galera, Prodi si è preoccupato del paese. Se non l'avessero mandato a cagare nel 98, quelle merda, il paese sarebbe in un'altra situazione. Quelle merda di Bertinotti e D'Alema, il paese sarebbe un altro paese. L'unico periodo in cui storia in cui il debito pubblico è calato sul Pile, sono stati gli anni di Prodi. Perché l'hanno mandato le regali suoi? Come? Perché sono delle merda i comunisti. I comunisti sono delle merda, questa è la verità. Perché la sinistra è sempre faziosa, sempre divisa, sempre invidiosa, non lo voterò mai più. Per uno specchietto per la loda, le Prodi, poverini. L'hanno fatto fuori per l'invidia di D'Alema, Bertinotti che è un... ...chizofrenico, capito? L'invidia, si è sempre divisa. La sinistra si deve sempre suicidare, come si è suicidato con Renzi, come si suiciderà le prossime elezioni, ma stavolta sono proprio contento che muoia. Mi sono rotti i coglioni dalla sinistra. Mi sono rotti i coglioni, mi sono rotti i coglioni.